BERCELLONA Un caffè letterario chiamato El Scattergaz. Già nell'anno 1900 il locale era frequentato da scrittori, poeti, musicisti e pittori. Fra questi qui era il giovane Pablo Picasso e conquistò i suoi amici ritraendoli nello stile alla Toulouse-Lautrec. Lo stile caffè, allora tanto di moda. Parlavamo di lui come di un eroe leggendario, disse più tardi uno di coloro che posarono per lui. Così Picasso ritrasse se stesso in quel periodo. Aveva soltanto 19 anni, ma il suo sguardo sembrava aver già penetrato a visi oscuri. Musica 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.